Ma cosa succede? Se non ci sono 30 gradi... Adesso l'ho esagerato 30 gradi... Tiene freddo! Ragazzi, tiene freddo! Con un giaccone che poi faremo un video sull'abbigliamento femminile. Che ne dici Graziella? Lo faremo un video sull'abbigliamento femminile? Ma sì, certo! Ciao ragazzi, io sono Enzo e lei è Graziella. Benvenuti sul canale Passione Moto. In questo video, che sarà un po' particolare, è dedicato completamente alle... Lady, compagne, mogli, che si avvicinano al mondo delle due ruote. In realtà sono consigli per avere un abbigliamento adeguato quando ci sono delle temperature poco gradevoli. Senza spendere delle grosse cifre. Esatto. Cosa farei vedere alle amiche? Non voglio annoiarvi ragazze, partiamo subito a far vedere quanti capi servono. Andiamo! Un paio di leggings di cotone, non tecnici, che mi permettono di rimanere con questi una volta tolti i pantaloni con le protezioni. Calze di pile tecniche per escursioni in montagna, che mantengono il piede asciutto e nello stesso tempo caldo. Maglia termica, a maniche lunghe, traspirante, che mantiene il calore del corpo e si adatta anche come una maglia normale. Felpa di pile, che io uso nelle uscite invernali, quando la temperatura è particolarmente bassa. Classico pantalone salopè, doppio strato con protezioni. Insomma ragazze, il pantalone da moto, che non rende giustizia alla silhouette. E dulcis in fundo, il re giaccone. Non ha importanza la marca. Quello è a vostra discrezione. Bene ragazze, che ne dite di questo tipo di abbigliamento? Poco costoso, ma efficace. Del resto lo usa Graziella, che è freddolosissima. Anche ad agosto abbiamo freddo, con 30 gradi. Quindi, se ve lo dice lei, potete considerare la cosa veritiera. Bene. Ti ho lasciato un bello spazione, ragazze. Ma proprio un bello, bello spazione. No, giustamente, chi occupa la sella al posteriore, ha bisogno di informazioni. Ragazze, se vedete sul sellino posteriore che avete freddo, questi potrebbero essere consigli utili. Del resto, se poi non vi piace, avete speso poco, avete delle magliette tecniche che comunque potete usare anche per uscire. Bene, cosa raccontiamo ancora ai nostri amici o alle tue amiche? Se vi è piaciuto il video, un bel pollicione all'insù e iscrivetevi al canale. Così non vi perderete i prossimi video e le novità del canale. Non ci rimane che salutarvi. Un ciao, bye, al prossimo video. Ciaoone!